Volevo, concludo, concludo subito, ogni volta che dico, per non appunto perdermi in trame che non riesco a governare, volevo dirvi una cosa, l'altro giorno volevo precipitare sul presente. L'altro giorno in Parlamento alla Camera la segretaria del Partito Democratico a un certo punto ha scagliato, è stata molto brava adesso, non importa, non è l'argomento, è stata bravissima, però ha scagliato un insulto a Giorgia Meloni e gli ha detto, sei la regina dell'austerità, sì, e allora non l'abbiamo letto tanto questo commento. E quando siamo scesi, Giorgia Meloni si è impaperata, non per questo, ha sbagliato tutto, insomma adesso non vi sto a dire, però quando siamo scesi, noi giornalisti stavamo in tribuna, guardavamo questa scena e mentre scendevamo, io dicevo la regina dell'austerità e giustamente un giovane collega mi ha detto, ma è una citazione degli 883 che è la regina della celebrità e io ho detto, caspita, ma a me non mi sarebbe mai venuto in testa di dare la regina dell'austerità alla Meloni perché per me l'austerità mi ricorda Berlinguer e quindi mai avrei fatto una cosa del genere. Non ho chiesto a Schlein se si era più, diciamo, ispirata agli 883, no, non gliel'ho chiesto, però volevo dirvi per questo che questi giovani colleghi, giornalisti bravi, anche loro abbastanza coltivati, alla parola austerità non sono scattati per niente, non si sono impressionati e ho avuto l'impressione, adesso ho fatto tutto questo lungo giro per dirvi, che un po' questi anni, queste cose di cui avete parlato voi, siano dimenticati, rimossi, non conosciuti. A me ha fatto molto impressione che un cronista parlamentare, bravo anche che di questo si occupa, non ha assolutamente pensato a questo e forse neanche la segretaria ci ha pensato quando lanciava questo insulto a Meloni. Gotor e D'Alema. Sì, ora rispetto al tema dell'austerità, per quelli della mia generazione, io sono del 71, certamente non è che mi scatta l'austerità berlingueriana, abbiamo vissuto tra il 2011 quando avevo 40 anni e oltre un tema molto significativo e il recupero di questa parola, peraltro utilizzata in diversissimo senso rispetto al tema della rimozione, la storia per essere fatta va prima dimenticata e la rimozione è un momento importante, non bisogna avere fretta, certo sono passati 50 anni ormai da questi avvenimenti e quindi uno rivendica il diritto e il dovere di studiarli, di approfondirli, però il nostalgismo, il reducismo, la politicizzazione devo dire a me un pochino, prima mi davano fastidio, adesso veramente sono serafico e mi disinteressano ieri ho incontrato un importantissimo vulcanologo, abbiamo parlato di vulcanologia, abbiamo parlato di terremoti, di eruzioni vulcani che mi ha detto, un accademico di lincei, mi ha detto che sai qual è il problema nostro, nostro intendeva dire dell'umanità che poi i vulcanologi fanno così quando parlano, non è che parlano dell'Italia degli anni 70, sai qual è il problema dell'umanità? dimmi, che ci dimentichiamo le cose e di conseguenza poi le ripetiamo, riavvengono e le abbiamo perdute abbiamo parlato del fatto che Roma fosse una città sismica, non i castelli, Roma, il centro storico di Roma e lui era affascinante, ci sono stati tic 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 tic, poi io gli dico vabbè ma sono duemila anni che stiamo tranquilli ma per lui duemila anni, niente, niente, un battito di ciglia, allora la riflessione sua quindi noi abbiamo perduto la consapevolezza storica che determinati luoghi, lasciamo stare Roma sono stati e quindi ad esempio ci ricostruiamo sopra poi per lui scienziato inevitabilmente ci sarà una nuova tragedia che ritornerà e ricontinueremo a piangere, ma qual è il punto? c'è stata questa tragedia che ritorna perché ci eravamo dimenticati quanto era avvenuto e ci vogliono qualche secolo perché questo avvenga allora mi ha colpito, mi ha affascinato la similitudine con la ricerca storica guardate che dimenticare è importante quanto ricordare questo ce lo dice anche l'esperienza umana nostra, delle nostre vite saper ricordare è difficile ma saper dimenticare quanto è importante allora è vero che sappiamo dimenticare poco gli anni 70, di questo ne sono sicuro grazie qualsiasi cosa significhi, era molto affascinante questo voler dimenticare perché se si ricorda che c'è stato il sisma poi magari fa qualche casa antisismica secondo me è meglio ricordarselo adesso è obbligatorio appunto, quindi meglio non dimenticare la legge non ha dimenticato ecco gli individui possono dimenticare ma bisogna che le istituzioni ricordino e prevengano invece questa bellissima mostra ci ha ricordato sì, io non sono neanche così contrario alla nostalgia come ho scritto, anche la nostalgia pare che faccia bene alla salute pare, degli studi recenti sì, 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 assolutamente io sono d'accordo con te ma qui lo storico è lui però naturalmente è evidente che noi parliamo di una vicenda storica la cosa importante è che studiare e ripensare questa fase della storia del paese è importante anche perché secondo me c'è ancora qualcosa da capire e da scavare per esempio quello a cui facevo riferimento poco fa e poi perché ci sono dei tratti di lungo periodo per esempio il tema diciamo del rapporto tra vicenda nazionale e dimensione internazionale che è qualcosa che appartiene tuttora alla realtà del nostro paese della nostra collocazione geografica della nostra storia, delle nostre fragilità quindi da questo punto di vista è evidente che qui parliamo di un altro mondo che ha aspetti che sicuramente non meritano di essere ricordati con nostalgia per esempio la violenza e aspetti invece che potrebbero essere utili non voglio fare una battuta polemica diciamo ma insomma se leggo che il PC affidava al segretario della FIGC la relazione del Comitato Centrale 28 anni e Terracini, Amendola e Ingrao, Stato Unito ad ascoltare e che il PD non riesce a fare il congresso dei giovani da 4 anni ho l'impressione diciamo lì c'è un settore gioventù comunista che giustamente non riesce a fare il congresso con tutto l'affetto diciamo perché non si mettono d'accordo a fare il congresso ho l'impressione che c'è qualcosa forse che non dico va ricordato con nostalgia va riportato ai giorni nostri diciamo ma comunque questa è l'unica impertinenza che mi permetto condividendo diciamo tutto per il resto diciamo io capisco il mondo è cambiato capisco benissimo che quando si dice austerità oggi si ha più in mente l'austerity e il rigore delle politiche europee ma infatti ho capito che questo segnava la mia anziana età è normale che sia così anche perché è normale che sia così quando parlavi con questi giovani adesso chiudiamo quando parlavi di questi giovani in questa relazione al comitato centrale avevi in testa sicuramente delle persone dei compagni, gente che avevi visto insomma nella militanza c'era una differenza importante tra voi della FIGC, tra i PC e gli altri alcuni altri, non tutti gli altri c'è stato un periodo in cui c'è stato un pezzo di sinistra italiana che ha creduto nella possibilità di una scrollata e di una rivoluzione io non so se era un'analisi politica o una psicosi di massa però c'è stato un periodo in cui la sinistra extra parlamentare ha cercato in varie maniere chi con la lotta armata chi in altra maniera eccetera voi della FIGC a questa presa del potere li invidiavate un po' perché questi avevano questo ideale questa fede anche per molti anni per molti è sembrata una fede anche noi avevamo la nostra fede a parte che io ho condiviso in parte per me il punto di cesura del mio 68 il momento in cui ho scelto e poi è venuto abbastanza presto io sono diventato funzionario del partito comunista nel 70 no alla fine del 69 nel 70 sono diventato funzionario a metà tempo del partito comunista e nel 70 diventai consigliere comunale capogruppo al comune di Pesa 21 anni ma la scelta fu motivata la ragione principale era questa lo dico rozzamente noi vogliamo fare la rivoluzione nel nome della classe operaia dove sono gli operai? erano lì stavano lì e quindi noi vogliamo fare rivoluzione in nome loro andiamo dall'altra parte no bisogna andare lì e lì era il PC cioè non c'è discussione capito cioè quelli nel nome dei quali volevamo cambiare la società erano nel partito comunista infatti il momento più straordinario di espansione perché poi il PC ebbe un'espansione enorme in quel mondo giovanile del 68 pensa che quando io entrare alla scuola normale gli unici iscritti al PC eravamo Mussi e io e il bibliotecario un uomo straordinario si chiamava Ennio Balboni e basta tutti quegli altri erano o cattolici che i cattolici c'era una fortissima presenza cattolica anche proprio legata in parte alla DC o di potere operaio all'epoca non c'era ancora lotta continua eravamo due 1967 novembre nel 71 su 123 studenti della scuola normale 52 erano iscritti al partito comunista questa si chiama egemonia culturale lo diciamo al ministro San Giuliano è stato un fenomeno di un'intera generazione io quando la sera rientrai alla mensa della scuola normale che era una mensa non era una mensa universitaria era una mensa di un certo tipo che ero diventato funzionario a metà tempo del PC fui festeggiato ci fu un brindisi e mi dissero è un onore per tutti noi pensa tu adesso adesso cosa succederebbe a uno che fa politica considererebbero tu pensa adesso allora era così era un altro mondo diciamo e quella generazione andò verso il partito comunista in una parte molto larga perché quella era era il partito della classe operaria italiana diciamo c'era poi abbiamo figurati io ho sempre mi ha tenuto un dialogo un'amicizia con t'altri che hanno fatto una scelta diversa però la nostra scelta non era meno carica di idealità grazie è andata così faccio pubblicità a un documentario a un film che ho visto che consiglio se non l'avete visto a tutti voi a Massimo D'Alema 16.000 limiti dalla rivoluzione che è intorno a Luciana Castellina ed è anche che è protagonista da lei ventenne fino a lei oggi e poi c'è anche un racconto della appunto della storia della sinistra ve lo consiglio in sala uscirà è uscito già e di intercettarlo però adesso devi fare una chiusura bella come quella di D'Alema io l'ho chiuso prima con quella roba che mi era tanto piaciuta grazie a tutti e a tutti grazie a questa meravigliosa mostra grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti